E adesso la musica, già da qualche giorno è disponibile sulle piattaforme di streaming online il nuovo EP del batterista lucano Antonello Ruggero, 5 tracce in cui ha coinvolto i migliori artisti nostrani. Si intitola Bress, respiro. Sentiamolo con Grazia Napoli. Respiro perché ho sempre respirato musica, da piccolo, non a caso, e la mia passione è diventata il mio lavoro. Questo EP nasce nel periodo di pandemia, quindi respiro nel vero senso della parola, respirare per poter vivere. Mi piace dedicare un piccolo pensiero al popolo ucraino che possono respirare libertà quanto prima. Tre inediti e due cover dei Beatles e di David Bowie che raccontano il percorso artistico di Antonello Ruggero e i suoi ascolti, le sue preferenze. Una produzione tutta lucana, dagli studi di registrazione ai grafici della copertina Ezio Buono e Giuseppe Catone, e del Factory Studio, ai musicisti e vocalist con cui fin qui è stato percorso un tratto di strada. Mi ha fatto piacere coinvolgere gli amici, musicisti, amici lucani, che in questo periodo hanno accompagnato, insomma, abbiamo condiviso musica insieme. Ma la batteria, quanto è protagonista? Abbastanza, ma ho sempre preferito dare spazio alla musica, quindi batteria messa al servizio della musica. Le copie fisiche saranno disponibili fra un paio di mesi. Per ora è disponibile ascoltare il disco su tutte le piattaforme online. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.